allora vediamo il segno di frazione algebrica o di prodotto dunque prendiamo come esempio un prodotto di due polinomi per farla semplice facciamo 3x più 2 che moltiplica 7 meno x e vogliamo vedere quando questo è maggiore di zero questa si chiama disuguaglianza che al contrario di un'equazione che cerca per una relazione per un'espressione algebrica quei valori per i quali l'incognita la fa diventare uguale a zero con una disuguaglianza vogliamo vedere invece lo studio del segno cioè per quali valori dell'incognita questa questa espressione algebrica può essere maggiore o minore di zero in questo caso vogliamo vedere quando è maggiore di zero questo prodotto di due di due binomi in questo caso un caso più semplice non 3x più 2 e 7 meno x come vale la stessa regola che vale per i numeri come per i numeri che sono positivi se sono tutte e due come per i numeri il loro prodotto è positivo se ciascuno dei due numeri cioè se due numeri sono dello stesso segno anche qui possiamo dire che questo prodotto è positivo se ciascuno dei due è positivo o se sono tutte e due negativi come si fa fare lo studio del segno di questo prodotto si vede per quali valori il primo dei due polinomi è maggiore di zero quindi andiamo a scrivere 3x più 2 maggiore di zero andiamo a risolvere questa disequazione si isola quindi il termine con la x da una parte si portano tutti i termini noti da quell'altro lato se a sinistra del segno della disequazione un numero è sommato dall'altra parte è sottratto così se a sinistra del maggiore un numero è moltiplicato quando lo porto dall'altra parte è diviso per cui abbiamo capito abbiamo risolto questa prima parte cioè abbiamo detto che il polinomio 3x più 2 abbiamo trovato che il polinomio 3x più 2 è positivo quando x è maggiore di meno due terzi questo vuol dire che se mettiamo su una retta su un'asse i valori delle x della x meno due terzi lo mettiamo qua un po a caso sappiamo quanto è il suo valore più o meno però adesso non ci interessa lo posizioniamo in un certo punto dell'asse lx e diciamo che che cosa sappiamo che per x uguale a due terzi 3x più 2 uguale 0 perché se qua mettiamo prendiamo l'equazione associata aspetta adesso non ti voglio confondere torniamo al valore a quello che stiamo facendo allo studio del segno dunque abbiamo abbiamo detto che per x maggiore di meno due terzi questo polinomio 3x più 2 è maggiore di 0 quindi qui possiamo mettere che per tutti questi valori è maggiore di 0 per x minore di meno due terzi ovviamente invece è minore di 0 se abbiamo graficamente rappresentato con una linea tratteggiata quella parte di diagramma della x dove il binomio è negativo rappresentato graficamente con una linea continua quella parte dell'asse delle x dove invece il polinomio il binomio è positivo la seconda parte invece andiamo a vedere quando è maggiore di 0 quindi quando se 7 meno x è maggiore di 0 quando meno x è maggiore di meno 7 cambiamo segno alla disequazione cioè moltiplichiamo tutto per meno 1 e cosa succede cambiando segno cambia il verso della disequazione questo spero che tu l'abbia già studiato altrimenti meno 10 quindi andiamo a mettere su questo stesso asse 7 dove rispetto a meno due terzi 7 sicuramente a destra perché è più grande di meno due terzi non ci interessa dire proprio dove sappiamo che è a destra quindi per x minore di 7 è positivo cosa? 7 stiamo scrivendo quando 7 meno x è maggiore di 0 e invece quindi per x maggiore di 7 è negativo quindi in questo caso qui abbiamo che in questa parte qui del settore è positivo in questa parte qui dell'asse delle x è negativo che cosa abbiamo? qui abbiamo che questo asse si divide in tre parti cioè in questa parte qua c'è una parte tratteggiata e una parte continua qui c'è una parte continua e una parte continua e qui c'è una parte continua e una parte tratteggiata quindi in questa parte qui vedi il primo polinomio è negativo e il secondo è positivo se moltiplichi un numero negativo per un numero positivo vuol dire che in tutta questa parte qui in tutta questa parte qui il prodotto di questi due binomi è negativo qua sia 3x più 2 che 7 meno x sono positivi per cui se li vai a moltiplicare tra di loro hai sicuramente un numero positivo in questa parte qui 3x più 2 è positiva ma 7 meno x è negativa quindi se li vai a moltiplicare tra di loro in tutta questa parte qua ci viene fuori un numero negativo giusto? quindi qual è la soluzione di questa disequazione? lo studio del segno diciamo di questa disequazione non la soluzione lo studio del segno di questo prodotto di due binomi ci dice che questo prodotto è maggiore di 0 quando la x è all'interno di questo intervallo cioè per i valori di x compresi tra meno 2 terzi e 7 andiamo a fare un po' di prove per vedere se quello che abbiamo scritto è vero oppure no prendiamo ad esempio un valore di x in cui dovrebbe venire fuori un risultato positivo prendiamo per esempio possiamo prendere ad esempio x uguale a 0 che sarà qui in mezzo più o meno per x uguale a 0 che si ha che viene 3 per 0 fa 0 più 2 quindi fa 2 per 7 meno 0 fa 7 2 per 7 fa 14 che è sicuramente maggiore di 0 andiamo a vedere per esempio un altro valore in cui dovrebbe essere positivo per esempio x uguale a 4 per x uguale a 4 quel prodotto di binomio cosa diventa 3 x più 7 diventa 3 per 4 12 più 2 che moltiplica 7 meno a posto di x andiamo a scrivere 4 abbiamo 12 più 2 fa 14 per 7 meno 4 fa 3 sicuramente un numero positivo non ci interessa sapere quanto fa sicuramente positivo andiamo a vedere x uguale meno 1 meno 1 dove sarà sarà più o meno da queste parti qua meno 1 perché meno 2 terzi è meno 0,7 6 periodico e invece meno 1 è sicuramente più piccolo quindi per x uguale a meno 1 abbiamo 3 per meno 1 fa meno 3 più 2 che moltiplica 7 meno meno 1 fa più 1 quindi qua abbiamo meno 3 più 2 che fa meno 1 che moltiplica 7 più 1 che fa 8 non ci interessa non ci interessa il risultato ma abbiamo un numero negativo per un numero positivo per cui il segno è sicuramente minore di 0 se invece andiamo a prendere un numero che si trova da questa parte per esempio 8 si trova sicuramente a destra di 7 quindi per x uguale a 8 abbiamo 3x fa 24 più 2 che moltiplica 7 meno 8 quindi viene 26 per meno 1 è sicuramente minore di 0 sono due numeri negativi cioè sono due numeri di consegno di scuola e quindi possiamo dire che questa soluzione qui che abbiamo trovato è corretta ovviamente non c'era bisogno di fare questa questa prova però è un esercizio utile andare a vedere questa cosa adesso salvo il video e te lo mando